Benvenuto Giuseppe Conte, due volte Presidente del Consiglio, leader del Movimento 5 Stelle. Sono diversi giorni che Giorgia Meloni l'attacca molto duramente, perché? Evidentemente teme, teme la coerenza del Movimento 5 Stelle, la forza con cui abbiamo governato, abbiamo mantenuto buona parte delle promesse, lei invece sta deludendo il suo stesso elettorato. Lei dice che avete praticamente affossato il Paese, facendo il super bonus avete tolto i soldi alla sanità, tutto per i prossimi millenni. Guardi, io dico una cosa, ma questo governo una misura da proporre ce l'ha, sono due leggi di bilancio. È possibile che è concentrato solo ad attaccare i governi precedenti, peraltro tenendo fuori Draghi come se Draghi non ci fosse stato? No, una volta l'ha attaccato, però... E poi ha subito ritattato e si è scusata. Beh, evidentemente deve entrare nel club dei privilegiati, sia a Bruxelles che a Washington, si deve accreditare. Senta Presidente, l'attacca però ad Atreiu non l'ha invitata. Ad Atreiu? Sì. Ci hanno provato, quando hanno visto la mia disponibilità hanno ritrattato questa verità. Chi l'ha chiamata? Ha parlato con i miei e ha detto che non volevano, temevano un nuovo rifiuto. Quando gli è stato detto, guardi che Conte gli è stato ricordato, è venuto a voi Presidente del Consiglio quando eravate a una percentuale di consenso molto bassa. Quindi Conte non rifiuta, ma il confronto. Ci hanno pensato, sono ritornati, hanno detto no scusate ma non possiamo, abbiamo sentito ordine all'alto che non possiamo invitare. Allora, naturalmente se Donzelli vuole chiamare o smentire, qua siamo a perdere. Perché loro invitano chi vogliono, assolutamente. Il tema è che dopo che è venuta al Parlamento a dire quelle menzogne, io ho detto... Quali menzogne? Quelle sul MES? Assolutamente sì. Ha detto, lei praticamente ha prerisposto tutto, poi l'ha fatto firmare dopo che era dimissionario, in modo che nessuno la potesse per quello perseguire, che non ne fosse responsabile politicamente e che poi potesse magari in futuro attaccare il MES. Guardi, ha accumulato una sequela di menzogne davvero impressionante. Ha detto che non c'è stato dibattito parlamentare. Abbiamo agito col favore delle tenebre e quando eravamo dimissionari con gli scatolloni già pronti. È una sequela così dolosamente preordinata di menzogne che ne risponderà davanti a una commissione perché noi non possiamo costituire e dar vita a questo precedente. Ma è vero o no che l'ha fatto firmare dopo che si era dimesso? Stiamo scherzando? Stiamo scherzando? C'è stato un dibattito parlamentare nel dicembre del 2020 e d'altra parte anche quell'ordine che è meramente esecutivo, dato da Di Maio al rappresentante, è stato fatto quando eravamo ancora al governo, prima delle dimissioni. Guardi, è il metodo del Mastro. Con il metodo del Mastro che hanno fatto sono andati lì a cercare nei cassetti dei vari ministeri qualche foglio che loro pensavano compromettente. Non lo sanno neppure leggere, neppure le date e lo hanno utilizzato per colpire un avversario politico. Così ha fatto Del Mastro, così ha fatto lei. Soltanto che sono menzogne di cui risponderà. Non possiamo consentire che nella sede più solenne e più ufficiale, istituzionale del nostro sistema costituzionale che è il Parlamento, un presidente del Consiglio che è il presente che viene, dice delle sonore falsità e menzogne, va via e il tutto rimane impunito. E' un oltraggio al Parlamento e al Paese. Esiste un'immagine che è diffusa. Giorgia Meloni è sveglia, in gamba, ci sa fare, circondata da gente che non ci sa fare. Lei concorda con questa immagine? Ma guardi, non concordo affatto, perché questa è un'immagine che sta ancora un po' salvando lei rispetto a una classe politica ovviamente di scarso livello. Ma quali sono le idee, le misure che sta portando avanti Giorgia Meloni? Sta rabatta, riesce a stare in piedi nonostante la crisi economica, nonostante l'Europa, nonostante il MES. Allora, scusi, abbia pazienza. Ha fatto due leggi di bilancio. Le possiamo imputare adesso due leggi di bilancio? Sì. Le possiamo imputare il fatto che non c'è una misura per gli investimenti e per le imprese? Però stiamo ancora in piedi. Non ce n'è una. Lei direbbe, con quello che hanno combinato prima, con quello che hanno combinato col super bonus, io vi sto tenendo in piedi. Stiamo in piedi? Sì, queste sono le proiezioni, non mie, quelle ufficiali dell'Istat. Crollo a picco della crescita del PIL. Crollo a picco degli investimenti. Però voi eravate sotto corso subito dopo il Covid. Crollo a picco della spesa delle famiglie. Di cosa parliamo? Voi eravate subito dopo il Covid. Come? No, voi eravate subito dopo il Covid. Da zero si muove. Ah, quindi lei crede al gatto morto? Ma le scelte sue sono un gatto nero per l'Italia. Il gatto morto è una teoria economica. Si sta portando al disastro. Se lo butti da un palazzo rimbalza persino un gatto morto. Guardi, dico solo questo, sulla manovra economica. Tu non hai una misura alternativa. Mi dica se si potevano spendere tutti quei soldi per il super bonus. Alla fine sono in pochi aver rifatto casa e abbiamo speso l'ira di Dio. Guardi, allora, col super bonus noi abbiamo realizzato un risparmio energetico di 1.000 euro a unità immobiliare. Abbiamo creato un milione di posti di lavoro. Abbiamo investito un euro, ora sono ritornati tre. Lei sta continuamente gettando un'opera di istrazione di massa perché, ripeto, adesso ha fatto una manovra economica. Lei poteva dire, il super bonus non mi sta bene. Questi sono i miei investimenti, non ce n'è uno. Manca la sostituzione del super bonus. Scusi, brevissimamente. La sua visione è questa. Per le imprese è la prima volta che una legge di bilancio non ha una sola misura per riformare il parco delle dotazioni informatiche e i macchinari delle imprese. Non c'è nulla per la sostenibilità della competitività delle imprese. Però c'è una tassa sulle imprese. C'è un obbligo assicurativo per tutti gli imprenditori per rischio catastrofale. Quindi una tassa in più. Un cento medio non c'è nulla e in più ci lascia in eredità. Mi dica, oratanto ne parlerà. Per 400 mila famiglie senza più nessun sostegno e un milione di persone a rischio povertà. E questa è la sua eredità. Però è coerente. A lei il mess non è mai piaciuto e ora sta facendo di tutto per non firmarlo. Allora, questo è un cartello, guardi, ho portato questa primizia. Primizia, questo è un cartello del 2019. La vedete qui Giorgio Meloni? La indico con il dito. Benissimo. Allora, cantavano l'inno nazionale del 2019 a Bruxelles contro il MES. Adesso cosa farà? Ci vuole far sapere cosa vuol fare? Ce lo dice Pierluigi Bersano in elezioni. Presidente Conte. No, assolutamente. Ma io dico che il nostro obiettivo è di costruire un'alternativa di governo, un obiettivo che ci impegna tutti i giorni. E un seme l'abbiamo già depositato con la proposta di un salario minimo. Dobbiamo continuare così, su temi specifici, obiettivi condivisi. Quello che secondo me l'unica cosa non funzionerebbe, siccome siamo due forze. Io parlo per il Movimento 5 Stelle, che ha una vocazione, DNA, caratteristiche, a non recitare da parte di un cespuglio. Ma vuole pieno rispetto della dignità, riconoscimento della reciproca autonomia. Devo fare un percorso, un metodo di lavoro, in cui quotidianamente si lavora verso questo obiettivo, che non è l'eddo di domani mattina, quindi abbiamo un po' di tempo per costruire, con obiettivi condivisi, in modo a poter arrivare con una seria alternativa credibile. Domani mattina, se avremo questa responsabilità, dovremo poter dire anticipatamente noi faremo questo, questo e questo. Non dateci il voto che poi andremo noi a costruire chissà che cosa. Vi servirebbe un federatore, una persona che vi mette insieme. Cosa può cambiare nel paese se governa ancora questa destra? La frase di Bersani, cosa può incidere? Innanzitutto sta succedendo questo, che non solo ci portano al disastro economico-sociale, perché prima stavo finendo, ci sono 400.000 famiglie abbandonate a se stesse, il rischio povertà aumenta per milioni e milioni di cittadini. Ma c'è un altro aspetto. Io ho sollevato la questione morale. La questione morale, vedete, non è che l'abbiamo sollevata perché noi del Movimento 5 Stelle siamo moralisti o siamo bigotti. La questione morale significa una cosa molto seria, la credibilità delle istituzioni a partire dall'istituzione di governo, il prestigio delle istituzioni. Allora, se tu ovviamente difendi e fai intervenire la solidarietà di partito, di coalizione per difendere Del Masto, Santanchè, Sgarbi, sei indifferente alla questione di Gasparri e tutti quei conflitti di interesse che si stanno creando. Non te ne importa nulla, non chiedi scusa. Tu, Presidente del Consiglio, di fronte a un tuo ministro che fa fermare il treno e sputolatamente dice, ma lo possono far fermare tutti, schiaffeggiando ai pendolari che ogni giorno si arrabbattano per appuntamenti familiari, appuntamenti di lavoro. E se continua così tutta questa tradizione, adesso c'è Crosetto che ci chiarirà perché ha un contratto di affitto con un imprenditore che opera nel settore della cyber security collegata alla difesa. Quindi c'è un problema oggettivo. Se tu, Presidente del Consiglio... E lui dice che non paga perché ancora ci sono i lavori. Per carità, però sicuramente c'è un problema se è confermato che è un operatore che opera nel settore della difesa anche. Allora, se tu, Presidente del Consiglio, intervieni a proteggere tutto questo e addirittura vieni in Parlamento tu a mentire come sul messo spudoratamente, cosa succede? Che tu... c'è un degrado delle istituzioni, una perdita verticale di credibilità. Questo ci lascia in eredità. La Costituzione dice la russa, ce n'è una formale ma ce n'è una materiale in cui il Presidente della Repubblica ha preso sempre più potere e adesso potrebbe essere proprio la loro nuova Costituzione a limitarlo. Hanno gettato la maschera perché il tema vero è questo, ridimensionare la figura del Presidente della Repubblica e invece rafforzare ancora di più tramite l'investitura popolare i poteri del Presidente del Consiglio. Io ho fatto il Presidente del Consiglio, non ho mai avvertito di avere poco potere, anzi tantissime sono le responsabilità. Il tema vero, se vuoi contrastare la stabilità veramente, basta evitare crisi al buio e quindi col voto di una sfiducia costruttiva. Invece loro no, vogliono concentrare tutto il potere nelle mani di un Premier e attenzione, sminuire assolutamente la figura del Capo dello Stato, come ha detto la Russa, non lo permetteremo. Volevo ritornare a prima, la questione morale però si abbraccia e abbraccia anche un altro aspetto. Attenzione, hanno fatto la guerra contro i nullafacenti, vi ricordate i divanisti, li hanno aggrediti e poi invece fanno attreio con un multimilionario, Elon Musk, lo elogiano, lo abbraccia. Tra l'altro anche diventando ridicoli perché, come sapete, è il figlio, l'ultimo figlio che ha portato, figlio della gestazione per altri. Loro stanno introducendo il reato universale, cioè il cosiddetto utile in affitto. La prossima volta Elon Musk non può entrare in Italia. Era una trappola. Sarà, è una trappola. Lo vogliono arrestare. Il figlio è il corpo del reato, quindi si avvitano su se stessi. La verità è che lei ha preso i voti per contrastare potentati, poteri forti, sa fare solo la guerra ai poveri, e si inchina alle banche, alle quali invece ha concesso due miliardi, poi le ha presi, ha rinunciato e le ha presi alle tasche dei cittadini italiani. Allora, Pierluigi Bersani e Giuseppe Conte, vi dico una cosa. Noi ci stiamo chiedendo come vi potreste mettere d'accordo voi, ma se anche voi vi metteste d'accordo non bastereste. Dovreste trovare pure delle persone che non sono d'accordo neanche con voi due, ad esempio Calenda, ad esempio tante persone che hanno sempre votato moderato. Betti, ci dici il gradimento del governo e il gradimento di Giorgia Meloni in questo momento? Sì, partiamo con i nostri sondaggi Ipsos. Il cartello numero 5, gradimento del governo, allora è negativo per un italiano su due, il 50%, positivo per il 39%, mentre ovviamente c'è un 11% di indecisi. Con il cartello numero 6 invece abbiamo chiesto il gradimento proprio di Giorgia Meloni ed è negativo per il 49% degli intervistati, positivo per il 39%. Lo spazio c'è, Presidente. Assolutamente sì. Questi sondaggi, per quel che valgono l'attenzione, però già dimostrano che non era prima, quando ha preso i voti, non è mai stata maggioranza del Paese. E ancora adesso riesce a galvarizzare un suo elettorato e probabilmente oggi chi l'ha votata perché si è lasciato convincere dal fatto che fosse coerente, oggi non vuole ammettere a se stesso che rimane deluso. Ma progressivamente tutta questa capacità comunicativa, questa vis comunicativa, si sgonfierà come un soufflé e noi ne pagheremo le conseguenze. La vis comunicativa è anche data, secondo molti osservatori, dal controllo della informazione. C'è stata la polemica sul direttore Rai presente a Treiu, ci sono polemiche continue sul tema. Presidente, mi dica tre punti su cui vi incontrerete a breve con il PD. Sicuramente mi piacerebbe col PD affrontare complessivamente questo problema della questione morale che ha tanti addentellati e tante applicazioni e a noi ci sta particolarmente a cuore come modo di governare e di rispettare le istituzioni con onore e disciplina e soprattutto non fare la guerra ai poveri e inchinarsi ai potenti, alle lobby. Questo è il primo punto. È un problema di metodo. Poi ovviamente abbiamo lavorato molto bene sul salario minimo, abbiamo anche la prospettiva che viene sperimentata in tantissimi paesi di riduzione dell'orario di lavoro, del tempo di lavoro. Possiamo lavorare, ovviamente, noi ci interessa lavorare sulla transizione ecologica perché l'approvvigionamento energetico è un problema fondamentale anche per il paese e poi vorremmo anche affrontare le questioni di politica estera. Un domani, se lavoreremo insieme, vorremmo capire veramente qual è la sintesi del PD e dei nostri alleati sulle questioni a partire da Gaza, a partire da tutti i conflitti e soprattutto si abbraccia il multilateralismo e il multipolarismo oppure se si pensa che dobbiamo sempre seguire le indicazioni che ci vengono dettate da Al. Ce l'hai in mente un nome che potrebbe mettervi d'accordo? Guardi, io penso che i nomi che potranno mettersi d'accordo molto facilmente se costruiamo questo percorso di dialogo saranno i rispettivi segretari o leader dei partiti, il PD del Movimento 5 Stelle e se verranno fuori degli altri interlocutori affidabili però perché noi con gli affaristi non facciamo sconti. Grazie, Ponte, Versace, grazie.